Offrire questa opportunità a noi stessi, ovviamente a tutte le delegazioni che ospiteremo, quindi vediamo, ma siamo molto uniti, siamo molto tutta l'unità. Quanto dirà Presidente? Non posso anticipare, lasciatevi. Abbiamo storia, abbiamo ricchezza, abbiamo tanto da offrire. Un esame? Guardate, è un esame per carità, perché comunque c'è un verdetto, ma adesso manteniamo pure le giuste proporzioni, non è che l'Italia è il momento in cui dimostrerà tutta se stessa senza appello, insomma. È un'occasione.